Saldi ufficialmente si parte venerdì ma quasi nessuno ha aspettato la data ufficiale perché la promozione è partita già prima di Natale con una svendita promozionale interna. Noi internamente abbiamo applicato tutti i tipi di saldi dal 30 al 40% proprio per una questione di far acquistare prima dei saldi quindi senza aspettare i saldi ufficiali proprio per permettere al cittadino di incentivarlo ad acquistare ogni tipo di prodotto. La tecnica anticrisi perché comunque questa è stata abbastanza rilento rispetto a quella degli anni precedenti. Dal 30 al 50% cominciato il 27 di dicembre fino al 5 di gennaio solo per chi è iscritto. Come risponde il cliente a questa strategia dell'azienda? Bene, risponde bene. Un metodo anticrisi che mette d'accordo commercianti acquirenti anche se i cittadini non hanno aspettato venerdì ma qualcuno ha comunque acquistato. Da Padova siamo venuti qui apposta per i saldi e per andare in questi negozi qua. Io non aspetto i saldi perché non ci credo tanto ma proprio stamattina sto in giro per fare spese. Sono appena sceso adesso vado a vedere subito che cosa c'è di buono da acquistare. Se trovi qualcosa che ne vale la pena sì, cioè secondo me. Compriamo solo quando sono i saldi, è inutile comprare prima di Natale che ti massacrano. Ho acquistato due capi al 70%, non ho speso neanche 100 euro, penso che avrei speso sui più o meno 250 in totale. No, 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 ho visto qualcosa però aspetto che mettono i saldi. Senza aspettare i saldi. Come vai? Sono cose che ci servivano urgentemente quindi non abbiamo bisogno dei saldi.